Buonasera amici del torneo Settebello, eccoci qui a commentare la prima partita della quarta giornata del girone A. I meravigliosi battono per 3 a 1 e fa un soldi. Siamo qui con Turelo Turco, migliore in campo, man of the match, anche se non ha segnato in una squadra che ha giocato in 6 ed ha vinto un match veramente difficile perché contro i primi in classifica, punteggio pieno, hai tenuto da solo il reparto offensivo, hai aiutato la squadra, l'hai vinto, complimenti. Tutto molto bello, però diciamo che davanti mi ha aiutato tantissimo Claudio Bruno, mio amico Sergio Moggeri, che chiamo dopo, che ha fatto un gran gol e ci ha permesso di finire in sicurezza. Perfetto, quindi forse che cosa avete trovato come motivazione dell'essere in 6? Ricordiamo che non aveva Daniele che è stato squalificato. Chiaramente la squalifica di Daniele ci ha dato una marcia in più, questo è ovvio. Noi soffriamo la presenza di Daniele. Siamo una squadra di Mourinho, giocheremo meglio con un uomo in mezzo. Noi sono 15 anni che soffriamo la presenza di Daniele in campo, quando è squalificato diamo sempre il meglio di noi stessi. Allora giocheremo sempre in 6? No, giocheremo sempre senza Daniele. La notizia è questa, giocheremo sempre senza Daniele. Va bene, ti ringraziamo, allora, a presto, mi raccomando, sempre senza Daniele. Sempre. Va bene, grazie per i nostri, giocheremo in mezzo. Eccoci con Ivan trovato i fan soldiers. Ivan, la tua forse è la migliore prestazione della tua squadra. E se te è strano anche, perché eravate 7, o meglio, più di 7, contro solo 6 uomini. E oggi stranamente avete perso, 3 a 1. Forse il fatto che avete visto gli avversari che inizio erano nemmeno, siete entrati in campo male, poco concentrati. Sì, sicuramente il fatto della pioggia ci ha penalizzato perché con la pioggia magari le qualità tecniche si ridurano. Quindi il livello, la differenza tecnica tra le squadre si è rendendo. Poi, per il resto, sicuramente il fattore che abbiamo visto inizio, magari abbiamo sopravvolutato la situazione. Oggi sottovalutato la situazione. Poi il reparto offensivo è stato molto... non ha segnato abbastanza. Di solito noi siamo una squadra che segna davvero tanto. Sì, è vero. Abbiamo preso 3 gol per errori stupidi e si potevano appunto evitare. Però noi non ne mordiamo e cerchiamo di vincere questo campionato perché noi ci siamo partiti bene e cercheremo di arrivare all'azione finale. Sicuramente. Diciamo che a differenza delle altre partite è mancata quella grinta che vi ha caratterizzato di una d'ora. Forse appunto perché erano in sei, la pioggia, il tempo, non li ha condizionati. Sicuramente alle persone partite, però rivedremo un po' un soldo. Poi dipende anche da ragazze, se i ragazzi non sono particolarmente spendi nel parlarti. Va bene, ringraziamo Ivan, fa un soldo e se li rivedremo costantemente.